Sono un dipendente della Mondi Silicart e siamo qui a presidiare e a scioperare dal 30 di marzo in modo permanente perché l'azienda dal 18 di novembre ha deciso inspiegabilmente di chiuderci, di chiuderci e mandare a casa 60 famiglie. I motivi sono solo per delle previsioni future nei prossimi cinque anni dove ci dicono che l'azienda potrebbe avere dei cali e noi oggi siamo qui a lottare per il posto di lavoro. Poi oltretutto è venuta fuori un'azienda che ci vuole acquisire e loro stanno facendo in modo di non vendere neanche, quindi ci stanno licenziando per la seconda volta, ma noi rimaniamo qui fino a quando non abbiamo delle risposte concrete e le risposte che vogliamo sono quelle di un posto di lavoro, non chiediamo altro. Questa era un'azienda che andava benissimo, produceva utili e ci ha voluto chiudere nonostante che andava bene, quindi noi lo riteniamo assolutamente inaccettabile. Nel 2014, nel mese in cui ci hanno detto che ci chiudevano, ha fatto degli utili raddoppiati, più che raddoppiati rispetto all'anno precedente, quindi un'assurdità, è inaccettabile che un'azienda che va sempre meglio alla fine ci chiuda. La situazione non è semplice e non è facile, risposte dovrebbero arrivare a breve, se queste risposte non arriveranno dalla Mondi Silicart ci batteremo nelle istituzioni per risolvere la situazione di queste 50 famiglie in difficoltà.